E' in questa stanza che vediamo a confronto le opere predilette di Agostino, Pallavicino, il padre, e di Ansaldo, il figlio. Nel corso del Seicento, all'inizio del Seicento, Agostino infatti predilige, come si vede nel Salone, farsi ritrarre e rivolgersi a Domenico Fiasella, suo pittore prediletto, di cui qui vediamo alcune delle opere che traggono ispirazione da temi letterari. A questo tipo di pittura, il giovane Ansaldo Pallavicino preferisce invece un pittore di nuova scuola, di nuovi modi, come il Grechetto, di cui addirittura ne colleziona un numero incredibile. Dai documenti risulta che ne aveva decine nelle proprie sale. E questi in particolare sono dei piccoli dipinti che rivelano un'attenzione a questo modo nuovo del dipingere del Grechetto e quindi questo rispondere ad una sensibilità più giovane rispetto a quella di Agostino. Di Grechetto troveremo nel sale del secondo piano ancora un altro dipinto, un altro ancora è invece conservato nell'altra residenza degli Spinola, oggi del sovrano militare Ordine di Malta a San Michele di Pagana.